ragazzi per l'italia delle bontà che ci fanno girare la testa c'è la granita siciliana Aurelie? eh sì, per le buone cose, come noi siamo gourmands c'è il sorbet tipico al citron che si mangia con la brioche ciao, ciao che cosa fate qua? allora qua facciamo granite, gelati, poi abbiamo i cannoli siciliani tipici che riempiamo al momento con la ricotta fresca con la brioche, con il gelato o altrimenti la granita accompagnata dalla brioche fantastico, bene, allora ci facciamo un giro per la piazzetta e veniamo subito a degustare qualcosa grazie molte, ciao, alla prossima ah, e poi che cosa abbiamo qua? allora, qui abbiamo un magasin che è una marca tipicamente siciliana con, su loro vettimenti, delle frasi in siciliano qualcosa di veramente molto tipico e queste boutique si ritrovano un po' per tutto, sull'île allora, questi t-shirt portano delle scritte in siciliano, ad esempio che vuol dire, in grosso, non c'è nulla a fare qua ragazzi, ci sono delle frasi simpaticissime, soprattutto dei siciliani vi facciamo una breve carrellata e poi vi salutiamo ragazzi, da questo splendido storie è tutto mi raccomando mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale YouTube Giovanni Salì facciamo la chiusa su questi ghiaccioni buon, 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 buon e voilà mmm, che buoni, adesso ce ne prendiamo uno allerれ L'è we anche le